Donnalì è un depensante assoluto perché in quel momento quell'artista aveva gli spettatori di Donnalì più quelli dal vivo, se proprio vogliamo dirlo, invece Donnalì aveva solo i suoi, quindi lo sfigato sei tu, ma anche non solo per questo ovviamente, uno sta facendo qualcosa di artistico, un altro sta distruggendo...